Per le sue parole, un mio pensiero che ho avuto non tanto tempo fa, mi sono chiesto ma qual è secondo te il vero segreto per la felicità? Non so per voi quale può essere, può essere a polenta con un formaggio o cose di questo genere, però pensandoci a un certo punto sono arrivato a questa situazione. Secondo me, e lo dico in questa canzone, il segreto della felicità sta in un quotidiano rapporto con la bellezza, se riusciamo ad avere un quotidiano rapporto con la bellezza, come la nostra Patrizia ha, visto che sta sempre di fianco, ha l'uomo bello per Antonio Masi. Allora lì siamo felici, sentito la... e bisogna trovarsene le ragioni, quindi io spero anche di lasciarvi qualcosa da pensare quando andrete a casa, anzi se volete portarvi a casa un pochino della mia musica sarò felice di essere nelle vostre collezioni. e che dire, vi lascio a delle cose da pensare, vi lascio a pensare a cose anche più profonde, tipo pensate che avete mai fatto caso che casa comincia con la C e finisce con la F. Pensate. e che dire, vi la chiamato a delle cose, anzi se volete portarvi a fare numeri, a delle cose e per le cose che spiei in uname, per aspettare che vi sono. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti